Architetto Benfari si avvia a conclusione la sua esperienza da sopprendimento ai beni culturali di Agrigento o quali sono le esperienze che porterà con sé? Le esperienze che porterò con me intanto sono quelle che stiamo vivendo in questo momento, in questo luogo magico che appartiene agli dei, lo troviamo alle spalle, siamo in un parco di 5 ettari. Siamo riusciti, malgrado le questioni che ben conosciamo dal punto di vista sanitario, a registrare una serie di interventi qualificatissimi sia sul parco, sia su Villa Genuardi e tutti i luoghi con termini alla villa stessa. Ha avuto un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda il Ponte Morandi? Sul Ponte Morandi devo dire che è stata una battaglia durissima ma che abbiamo vinto non solo per convincimento ma anche perché la demolizione che si auspicava anche da parte dell'ANAS sarebbe stata deleteria. Sappiamo benissimo che i piloni progettati dal grande ingegnere Morandi hanno per lunga parte individuato aree archeologiche importantissime. Quindi pensare a una demolizione sarebbe stata veramente una cosa molto molto complessa e deleteria anche per la città. Abbiamo trovato una soluzione che è quella appunto del restauro, del consolidamento con metodologie e tecniche moderne e anzi io auspico che i miei colleghi che hanno già incominciato a lavorare sull'argomento possano addirittura vincolarlo in termini architettonici perché per la città ma non solo per la città ma per la nazione intera rappresenta un elemento di architettura di qualità elevatissima. In questi quattro anni ha dovuto affrontare anche l'argomento del rigassificatore e le risorse del PNRR. Quella del rigassificatore è una battaglia che la soprintendenza non vuole vincere a tutti i costi. Nel senso che c'è un progetto antico dell'Enel che ha avuto, dalle carte che ho studiato, un'autorizzazione di molti molti anni fa. Ovviamente il piano paesaggistico nel frattempo è intervenuto, ci sono anche interventi importantissimi da parte dell'UNESCO sull'area che tutela e valorizza il parco archeologico della Valle dei Templi. Tutta quell'area affronta anche temi non solo ambientali ma anche di architettura. Penso a Contrada Caos, alla Casa di Pirandello, a tutta una serie di ambiti, compresa la Scala dei Turchi. E tutto ha un tiro di schioppo. Il rigassificatore dovrebbe avere luce proprio dietro le mie spalle. Basta solo guardare questo impianto vegetale e di paesaggio per capire che sarebbe davvero una disfatta non solo per l'area archeologica e paesaggistica della Valle dei Templi ma per tutta la provincia di Agrigento. Di contro dal PNRR sono arrivate delle risorse che le hanno consentito di portare a termine altre progettualità. Il PNRR è stato intercettato in una maniera formidabile e con i miei colleghi dirigenti dell'unità operativa seconda e terza, l'architetto Lucera e l'architetto Mangiapane prima, siamo riusciti attraverso una schedatura capillare ad individuare 23 progetti che sono ovviamente di proprietà del Ministero degli Interni perché fanno parte del fondo ecclesiastico di culto. Quindi è da lì che siamo partiti, abbiamo individuato i responsabili unici dei provvedimenti e quindi da qui a pochi mesi la Prefettura ci darà il placet per partire con i progetti esecutivi che arriveranno ad un intervento finanziario pari a 28 milioni di euro. La soprintendenza ha anche sbloccato delle strutture ricettive? Abbiamo sbloccato tre grosse strutture ricettive, una addirittura è entrata in funzione proprio quest'estate nell'area di Montallegro Siculiana per quasi 100 posti letto. Poi abbiamo approvato un altro progetto molto interessante nell'area Saccenze a Monte Rotondo e l'ultimo è stato firmato proprio la settimana scorsa con un altro intervento interessante di quasi 600 posti letto nell'area di Licata. Tra i progetti che le stanno più a cuore è Borgo Bonsignore? Beh, Borgo Bonsignore non ce l'ho a cuore soltanto io ma soprattutto chi lo ha voluto fortemente perché a quel tempo era anche assessore ai beni culturali ad Interim e mi riferisco al presidente Nello Musumeishi. È stato un progetto travagliato però mi rimane nel cuore innanzitutto perché i progetti che il presidente aveva individuato erano tre complessivamente e il nostro è arrivato perché siamo stati i primi a progettare l'intervento dal punto di vista materiale, lo abbiamo portato in gara, lo abbiamo realizzato e lo abbiamo quasi collaudato, quindi è un'esperienza straordinaria. C'è ancora il piccolo auditorium a Sciacca nella chiesa di Santa Margherita e aspettiamo da qui a fine anno che si sblocchi qualche problema di carattere tecnico, dopodiché possiamo ben dire di avere fatto operazioni anche sotto il profilo storico-artistico, sotto il profilo della vincolistica, architettonica, paesaggistica e due bei interventi di scavo archeologico, uno a Sant'Angelo Muxaro e un altro che partirà con l'ausilio e anche l'aiuto della facoltà di lettere dell'Università di Catania. A Villa Genuardi resterà la sua impronta perché ci sono dei lavori in corso e un ambiente verrà dedicato a una persona a lei molto cara. Villa Genuardi è ritornata a rivivere, credo, chi conosce l'ambiente sa come l'ho trovato e come si trova in questo momento. Quindi grandi interventi di recupero sul giardino, grandi interventi di restyling della facciata e in ultimo la definizione, la realizzazione del piccolo auditorium per 90 posti dedicato al mio amico Sebastiano Tusa. A fianco ci sarà una piccola biblioteca e un piccolo archivio.